E' la presentazione di qualche nostro punto del programma da discutere con la gente e poi per il resto vedremo perché da qua all'anno prossimo ce ne passa di tempo e prima di fare le cose vogliamo che siano fatte bene con le persone giuste. Adesso è solamente un proponimento da spiegare alla gente su cosa vorremmo fare. Quindi ancora non abbiamo dei nomi ufficiali? Cioè il team è già stato deciso oppure ancora ci sono dei nomi? No, adesso abbiamo un gruppo, però questo gruppo va ampliato e abbiamo tutto il tempo e vogliamo fare con calma senza dare niente di scontato. Vedremo se trovano le persone giuste e poi a suo tempo saprete tutto. Lei qualche mese fa aveva dichiarato che voleva all'interno del suo gruppo almeno una decina di giovani. Questo proponimento è stato mantenuto? C'è qualche giovane di cui possiamo anche fare il nome oppure ancora preferite mantenere in caldo? Preferiamo aspettare perché i giovani io li voglio in squadra, hanno idee, giovani che possono dare una mano. Vediamo se l'unità di intenti di questi ragazzi possono essere come i nostri, allora si potrebbe iniziare a comunicare qualche nome. Però adesso come ho detto è presto. Io aspetto ancora perché come ho detto prima, io fino a Natale non dico niente. Qualche tempo fa circolava la voce nell'ambiente che qualcuno di altre liste civiche di Como vi aveva contattato. Questa notizia ce la può confermare o ce la smentisce? No, la smentisco perché l'altra volta non c'è stata l'altra riunione lì a Don Guanella. Qualcuno di qualche lista ci ha chiesto, noi abbiamo detto che non abbiamo ancora deciso prima di tutto se ne riuscivamo a fare la squadra. E poi avremmo deciso in seguito se fare una cosa simile. Adesso noi andiamo da soli. Quando avremo deciso veramente da farsi potremmo anche parlare. Però la nostra intenzione è di andare da soli. Quindi momentaneamente escludete l'appoggio o di liste civico o di grandi partiti? Per esempio ieri ci sono state le primarie del PD. Escludete un appoggio da parte del PD o del PDL o della Lega? Ma escludiamo. Però noi abbiamo detto. Per distinguersi dagli altri noi vogliamo andare da soli con persone nuove, non persone che facciano parte di questa amministrazione. Perciò vorremmo provare a mettere in piedi una cosa con persone che, come ho detto prima, non abbiamo fatto parte di questo. Sarà facile, sarà possibile? Questo non lo so. Per quello che ho detto io aspetterei la fine di dicembre per decidere veramente chi sarà con noi e chi non sarà con noi. E se potremmo fare un po' di strada assieme a qualcun altro. Grazie a tutti.